e poi hanno vinto la partita che rimonta è Luca, cosa ne pensi? vincere una partita in rimonta è importantissimo al di là delle qualità tecniche messe in campo oggi la squadra dimostra così anche grande forza dal punto di vista caratteriale siamo ai saluti finali grazie Luca per il tuo prezioso contributo un onore per me, saluto e ringrazio il pubblico da casa grazie a tutti 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.